Le imbarcazioni della prestigiosa competizione di vela Volvo Ocean Race hanno lasciato il porto di Tajay in Brasile per far rotta verso Newport negli Stati Uniti. Si tratta dell'ottava tappa, lunga 10.555 km, della competizione che si svolge in tutto il mondo, da Alicante in Spagna all'Aia in Olanda, dove la gara si concluderà nel mese di giugno 2018. Al momento della partenza a guidare la classifica l'equipaggio sino-americano di Dong Feng al comando dello skipper Charles Caudillier. Questa edizione della Volvo Ocean Race è la più lunga di sempre, con 83.000 km suddivisi in 11 tappe intorno al mondo.